Avvocato Giovanna Bruno, la situazione finanziaria del Comune di Andria è ben più importante della presentazione del nuovo esecutivo. Qual è la posizione del PD e del centro-sinistra a tale riguardo? La vicenda del rimpasto di giunta è a metà tra il ridicolo e lo scandaloso e quindi siccome ancora una volta tutta una questione interna alla maggioranza, lasciamo che sia la maggioranza stessa a sbrogliarsela, a pronunciarsi come sta facendo in queste ore. A noi interessa avere uno sguardo attento, come sempre abbiamo fatto, sulla questione economico-finanziaria dell'ente, che è molto grave, lo abbiamo annunciato in tutte le maniere, abbiamo cercato di dare segnali il più possibile chiari, ma l'amministrazione non ci ha mai voluto seguire e adesso siamo alle prese con ben 140 pagine, forse anche di più, di relazione conclusiva del MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dopo un'attenta analisi di tutta una serie di indici arriva a sottolineare in maniera inequivocabile che la condizione generale è alquanto preoccupante. Rispetto a questa relazione l'ente ha i suoi 120 giorni di tempo per fornire tutte le delucidazioni e le spiegazioni del caso, ma resta il fatto politico, tanto che come forze di opposizione, partendo da un'assemblea del Partito Democratico, abbiamo deciso di protocollare una richiesta di consiglio comunale monotematico, proprio sulla relazione del MEF, prima ancora di arrivare ai riequilibri di bilancio che devono essere per legge approvati entro il 31 luglio. In questo chiediamo la collaborazione di tutti quei consiglieri di maggioranza che in queste ore sulla stampa si sono affannati a prendere posizioni contrarie alle scelte operate dal sindaco Giorgino nel rimpasto di giunta. Tutti loro chiedono un'operazione verità, ebbene noi stiamo protocollando questa richiesta di consiglio comunale monotematico che vengano a sottoscriverla, condividiamo per una volta una questione delicata ed importante, arriviamo in aula e sentiamo le spiegazioni che ci vengono fornite in merito a questa lunga relazione e soprattutto chiediamo all'amministrazione di farci sapere come intende rispondere a questa relazione e quali sono i margini, se ci sono ma ormai abbiamo forti dubbi, affinché non venga dichiarato lo stato di dissesto dell'ente.